11 maggio alle 17 a Cervo all'oratorio di Santa Caterina, altro appuntamento con la riviera dei libri Cervo in blu d'inchiostro con noi c'è il professor Giorgio Durante. Lei parteciperà a questo incontro con John Cottingham, docente dell'Università di Londra e di Oxford. Perché credere? Questo è il titolo del libro del professore. Esattamente, il titolo di un libro che ha avuto un certo successo in Inghilterra è stato anche tradotto in italiano. È un tema interessante. John Cottingham ci condurrà con le sue riflessioni a riflettere sui temi importanti, il senso del credere, il senso del non credere, il valore del dubbio, la grande tematica del senso della vita. Credo che sia davvero un tema interessante, che sia un grande coronamento al grande lavoro che è stato fatto con questa grande iniziativa della riviera dei libri, curata dalla professoressa Francesca Rotta Gentile. Noi siamo anche particolarmente contenti che questo incontro sia a Cervo, dove è nata questa grande rassegna letteraria con il grande lavoro della Compagnia du Servo, il patrocinio del Comune. Pensiamo che sia una degna conclusione di questo ciclo di incontri, che è stato estremamente fecondo dal punto di vista della partecipazione del pubblico, della qualità della partecipazione. Abbiamo sempre avuto moltissimo pubblico, le aule strapiene di giovani, di persone più adulte, interessate a dialogare, a confrontarsi con i grandi nomi della cultura. Infatti presenti anche tanti grandi autori. John Cottingham è l'11 maggio alle 17. È un professore affermatissimo, il grande traduttore in Inghilterra delle opere di Cartesio. Per Cervo è un grande onore e d'altronde si inserisce nella tradizione della internazionalità di Cervo, che ha già la rassegna di musica e tante altre iniziative che coinvolgono un po' da tutto il mondo grandi personaggi della cultura, dell'arte e della musica. Vorrei rassicurare, chiunque voglia venire, l'incontro sarà in italiano. Molto generosamente il professor Cottingham ha accettato di parlare nella nostra lingua. Sarà intervistato dalla professoressa Lucinda Buia, che è stata un grande insegnante al liceo classico a Sanremo. E gli studenti del liceo scientifico d'Imperia, anche loro rivolgeranno delle domande. Quindi siamo davvero orgogliosi di avere questo incontro e vi invitiamo nella splendida cornice dell'Oratorio di Santa Caterina, nel bellissimo Borgo di Cervo, sabato alle ore 17, per questa grande occasione di riflessione, come dicono gli inglesi, di intellectual food, per il nostro spirito, per la nostra mente.